Rieccoci qua! Nuova puntata dei riassunti del Cronovisore con il secondo libro delle cronache nella Bibbia, capitoli dal 25 al 30. Se non sapete di che stiamo a parlare avete un casino di puntate precedenti da recuperare. Qui principalmente rivediamo i viaggi nel tempo che abbiamo visto in live, tutti i lunedì alle 21 sulla parrocchia viola. Viaggi che vanno a svelare la verità su ogni capitolo della Bibbia che leggiamo. Qui su YouTube naturalmente non rileggeremo per intero tutti i capitoli, ma ve ne farò un riassunto. Il fatto però è che il Cronovisore è un prototipo e a forza di utilizzarlo durante la lettura del testo sacro ha creato una realtà parallela agli eventi narrati nella scrittura. Questa realtà è iniziata quando è stato creato il protoparadiso, il luogo dove vanno a finire tutte le anime quando ancora nel libro non si erano inventati né il paradiso né l'anima. Questa realtà è ovviamente canonica perché il Cronovisore mostra soltanto la verità. È una verità di fede, quindi perfettamente razionali e zitti, me volete di niente. Così ogni tre capitoli, ogni tre viaggi, c'è un balzo quantico verso la Time Story del protoparadiso. Che nelle puntate precedenti ha visto morire Gabriele dopo un'orgia all'inferno. Satana, suo grande amico, intento a ritrovarlo, riesce a far fuggire Dio dalla prigione del Tribunale Galattico. Insieme hanno la missione di raggiungere quel luogo dove si va quando si muore nell'aldilà. Cioè, al di là dell'aldilà. Chiaro no? Trama semplice e lineare. Adesso torniamo alla Bibbia. Capitolo 25. Sare al trono Amazia, figlio di Joas. Amazia fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e infatti uccise gli ufficiali che uccisero suo padre. Tuttavia, gli risparmiò i figli perché obbediva alla legge di Mosè che diceva che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Eh, ma qua c'è bisogno che qualcuno lo vada a di ai figli degli egiziani, ai figli dei popoli fatti uccidere dal Signore, al figlio di Davide, tutti figli morti per le colpe dei padri. Poi, se ci vogliamo buttare pure un po' di teologia spicciola, non punire i figli per le colpe dei padri un par dei cazzi. C'avemo un peccato originale di troppo, zi. Nel frattempo, Amazia arruolò centinaia di migliaia di uomini per la guerra. Assoldò persino un esercito composto da soli israeliti. E subito un profeta lo avvertì che era meglio non fare affidamento su di loro perché Dio stava ancora in puzza. Amazia naturalmente ignorò i consigli del profeta. È ovvio, no? C'è uno che ha assunto come profeta il suo unico compito e sentì quello che vuole Dio e riferirlo al re. Perché chiaramente Dio non può parlare direttamente, no? Deve essere interpellato da un profeta. Sarà pure onnipotente, ma vaffanculo, paradiso terra interurbana, costa un botto. Quindi Amazia va in guerra e perde. Successivamente arriva in guerra e vince contro Edom. Solo che si porta indietro idoli da venerare. E che sarà mai successo poi? Il profeta parla con Dio e Dio si incazza. Ormai i profeti di Dio li chiamano Dio e poi fa sedute di psicoterapia, se deve sfogare. Ovviamente Amazia ignora i consigli del profeta e pia gli schiaffi in guerra pure da Israele. Alla fine viene ucciso in una congiura. Fine regno di Amazia. Allora, capitolo 25, la superbia e l'arroganza d'Acazia, vai. Ma Acazia è quello che viene avvertito da profeta del Signore di non fare guerra contro Israele? Ma che poi lui dopo fa guerra uguale contro amico di Israele, gli ruba Dio e tutto contento si mette a venerarlo e per questo poi il Signore gli pianta un casino e lo uccide. Sì, è lui. E non è l'arroganza, è stupido. Eh, tutti i torti ti posso dare, però che fa, ma chiudiamo subito? È troppo breve. E beh? E beh, gente ha pagato. Tocca dare un servizio completo, tocca sviluppare argomentazioni come hai fatto prima, tocca darsi un minutaggio minimo sotto il quale non si può scendere. È giusto, è giusto. Mbè, quant'è un minutaggio minimo? È poco meno di due minuti. A posto, vado a far pausa. Vuoi anche tu succo di frutto? Questa è la storia di Ozia, re di Giuda, figlio di Amazia. Seguì le orme del padre quando seguiva la legge di Dio. Ed ascoltava persino i consigli dei profeti che lo crebbero nel timore di Dio. Attenzione alle parole, timore di Dio, non amore. La Bibbia non parla mai di amore riguardo a Dio, parla del timore. E giustamente quello demanda le carestie, le piaghe, le palle di fuoco. Pensate che Ozia, vivendo nel timore di Dio, vinse un sacco di battaglie. Il suo regno si stese fino ai confini d'Egitto. Non è vero un cazzo. Ozia fortificò Gerusalemme costruendo torri, scavando cisterne. Aveva un esercito equipaggiato con lance, scudi, elmi, corazze e pietre per le fionde. Io metterai la mano sul fuoco giusto sull'ultima. Poi un giorno Ozia decise di andare a offrire l'incenso nel Tempio del Signore per ringraziarlo. Solo che offrire l'incenso non era compito del re, ma dei sacerdoti. E Dio che fa misericordioso accetterà comunque il regalo, visto che era un gesto di devozione nei suoi confronti. In fondo stiamo pur sempre a parlare di un Dio d'amore e di pace. E in questo caso puni Ozia con la lebra sulla fronte, costringendolo ad una vita di isolamento fino a quando non morì per la malattia. Cosa ci insegna questo passo? Che quando pregate il Signore fatelo fuori ore e pasti, mi raccomando. Visto mai che lo chiamate e sta ancora a mangiare, fa un macello. Questa è storia di Ozia, figlio di Acazia, che voleva bene a Deo e faceva tutto quello che voleva Deo. Per questo prosperò tanto, costruì mure, città, vinse tutte le guerre. Poi un giorno decise di offrire incenso al Signore, però siccome non era il suo turno, il Signore gli donò la lebra e Ozia motì. Come sono andato? Senti, guarda, Napia sul personale, ad andare bene vai bene, ma ti devo affiancare qualcuno. Perché comunque nel commento ai capitoli mi serve un po' di contraddittorio, no? Una discussione costruttiva, un arricchimento argomentativo per nutrire il pubblico a casa, mi capisci? E chi ci mette a fianco? Non è rimasto più nessuno del personaggio principale. Mosè e Gesù stanno in prigione galattica. Deo e Satano stanno al di là di qua. Gabriele è morto. Chi ci è rimasto? Sono altri personaggi, non so, così simpatici da poter fare il ruolo più importante di comparsa. Ma tranquillo, vedrai che vi troverete bene, anche perché mi ha detto che te conosce pure. Ciao, mio affascinante amico minorenne. No, è terribile, Spirito Santo no! Ma che fai? Mi dai del lei? Ormai siamo amici. Chiamami per nome. Chiamami Sandro. No, è terribile, Spirito Sandro no! Ioam, figlio di Ozia, altro re di Giuda. Qui pare tutto apposto, almeno lui rispettava le leggi divine, ma il popolo continuava a pervertirsi. Non c'è niente da fare, le leggi divine fanno schifo, non piacciono a nessuno. Cioè, ma che c'è il re che è bravo e fa tutto bene, fanno capitolo corto? Il capitolo sarà anche corto, ma io qui sotto... Perché devo fare puntata con Spirito Sandro? Fa molestie! Eh, questo ce l'avevamo, Giosuè, in te lamentà. E comunque non interrompe il flusso, perché se stava a creare un po' d'archimia, un battibecco, una discussione... Vai, stai a commentare il capitolo, continua, vai, vai. Perché adesso che c'è il re buono, che fa tutte le cose giuste, fanno capitolo breve... E invece quando c'è il re che fa cose sbagliate, fanno capitolo lungo dove muore tanta gente? Ti piacciono le caramelle, Giosuè? Ho delle caramelle nel mio furgone. Perché? Lui nemmeno segue il discorso! Dai, bene, la chiudiamo così, ci vediamo settimana prossima, fate i bravi, eh! Ciao ragazzi! Oh, siamo rimasti soli. Quando morite non venite in paradiso, è posto terribile! Abbiamo lasciato i nostri eroi Dio e Satana per correre strade inesplorate fino ai confini, al di là dell'al di là. Quali creature popolano quelle dimensioni? Quali misteriosi secreti cela quella terra magica di energia quantica? Lo scopriremo ora, nel viaggio del tempo del proto-paradiso. Corri, sa, corri che è grosso, corri! Corri. Prima fai i casini, poi dici corri. Ma se può sapere poi perché siamo dovuti scappare? Non sei Dio? Non qui! Cosa? Come non sei Dio? So Dio al di là dell'al di qua, ma qua no! Come te posso spiegare? Qui c'è tutto un altro piano regolatore, è un'altra ditta! Ma perché io non so niente di tutta sta roba? So tu fratello! Sì, ma fai un altro lavoro, non so se mi spiego. Io c'ho tutti i dossier declassificati, tu lavori ai piani bassi e io ai piani arti, no? Vabbè, e mo che stiamo qua? Ah, guarda, io di sto posto ho solo letto, non ne so molto. Fermi i andanti! Voi non siete di questo mondo! Ma che? Deve essere una sorta di evoluzione di Maurizio Costanzo, boh! Io sono un blemmo, rappresentante di una popolazione di... Ehi, dove siete andati? Non vedo più nulla! Ah, eccomi di nuovo. Rappresentante di un'antica popolazione che si estinse migliaia di anni fa sulla terra e che... E che voi non avete accettato nel regno celeste. Ah, beh, mi hai visto gente deforme in paradiso all'inferno? Pensavo guarissero. Ma sarebbe una perdita di tempo, no? Nei famo poco entramo, risolto il problema ara, dice. Signor Blemmo, ascolti, noi stiamo a cercare un amico nostro. Alte! C'ho detto? Prima di proseguire dovete superare tre prove, altrimenti verrete cacciati e non potrete più tornare. Sta cazzo è barba. Ehi, vabbè, capirai tre prove, che ce vuole? Soddio, dio un po'. Scusaci, Gabriele. Ci abbiamo provato. Evo un po' di fiducia, però. Capitolo 28, Yokehatz, figlio di Yoam, re di Giuda. E niente, questo è uscito male, si mette a prega altre divinità e brucia i figli sul fuoco, così, perché fa molto alternative. Giustamente, il signore lo fa sconfiggere dagli Aramei, cioè proprio uno di quei popoli che il signore voleva distrugge per le pratiche inumane. Ma a ristabilire l'ordine, ecco che arriva il profeta Oded, anche per liberare i prigionieri che aveva fatto il re di Israele andando a picchiare Giuda a sua volta. Acaz, che era evidentemente uno che non capiva un cazzo di niente, invece di chiedere aiuto a Dio, chiese aiuto al re Assiro. E questo, infatti, invece di aiutarlo, gli emina pure lui. Alla fine, Acaz muore, ma dopo aver fatto sempre quel cazzo che gli pareva, venerando altri dei. Punizione finale? Inferno, secondo voi? Ovviamente no, non se ne erano mica inventato. Semplicemente non lo seppellirono insieme alle tombe dei suoi padri. Si può ancora udire la voce dello spirito di Acaz che dice prima di scendere nello sciol. Sti cazzi, tanto son morto. Bene, come andate questa settimana, ragazzi? Avete studiato? Spirito Sandro, te che dici? Ci siamo trovati bene, siamo entrati molto più in sintonia. Adesso siamo molto più affiatati, non è vero? È stato tutta la settimana a spiarmi da buco di porte e poi voleva offrirmi per forza bevande sospette. È stato terribile. Vabbè, ma piccolo Giosuè, dagli tempo, no? Si deve ambientà. Questo prima viveva in un regno tutto suo. E poi non dimentichiamoci che a questo punto della storia lo spirito Sandro ancora non era nato, no? Lo dobbiamo comunque educare, lo dobbiamo far crescere ed evolvere insieme a noi. Capito? Devo evolvere insieme a te. Perché non ti volvi un po' affan... Allora, capitolo 28, chi mi risponde? Spirito Sandro, vai! Allora, il capitolo 28 parla della condotta di Acaz, questo re che volta le spalle al Signore e rivolge preghiere ad altre divinità. Questo comportamento, ovviamente, comporta l'ira di Dio che prende provvedimenti e non lo dice. Come? Eh, il capitolo non dice come Acaz muore. Cioè, dice che si addormenta con i suoi valli così tranquillamente. Mi pare strano, cioè, neanche una nendettina, Dio, piccola. Ma in effetti è strano, eh? Non so che dite, è inusuale. Magari pure il Signore Deo è stanco del nesimo re stupido. Se dopo tutto questo anno di Stendino di Massa e Gianni Ocidio, re non capisce che fallo meni, re disabile. Ma a Dio non gli piacciono i disabili. Beh. 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 Allora, boh, onesto. Capitolo 29. Arriva Ezechia, figlio di Abbia. Questo inizia bene. Comincia a fare ciò che è retto agli occhi del Signore. Restaura il Tempio, ristabilisci i sacerdoti, li fa purificare con tutti i riti del caso, butta via gli idoli. Ovviamente per fare tutto ciò è necessario sgozzare migliaia di animali cospargendo tutto di sangue. Perché Dio ti ama. A te. Mica agli animali. Agli animali sti cazzi. Bene. Capitolo 29. Chi è preparato? Vai, Spirito Sandro, dice. È il turno di Ezechia, di regnare su Gerusalemme. E nonostante fosse figlio di Acaz, egli ristabilì il culto del Signore al Tempio, con numerosi olocausti. Bravo, bravo. Rapido e conciso. Essenziale ma esaustivo. Mi sei piaciuto. Giusuè, certo te, però c'è bisogno che ti dà una svegliata, eh? Ma pure io alzato umano, però. Se vuoi la prossima volta posso tenerti in braccio, così allungherai la mano un po' più in mano. Sei fortunato che so, bambino. Se non faccio allungavo mano. Allora, non litigate però, eh? Giusuè, che è questo atteggiamento? Questa aggressività immotivata? Non è immotivata. Lei non sceglie mano. Spirito Sandro fa molestie. Io fino a qualche giorno fa ero su terra e vivevo con famiglia nuova. Tutti mi volevano bene. Poi papà ha perso il lavoro senza motivo e sono tutti morti. E poi sono morto pure io. Forse sei un po' stressato, eh? Beh, vedi un po' te? È aggressivo piccolo Giusuè. È immotivatola questa aggressività. Vabbè, dai, fammo che il prossimo capitolo rispondi te. È immotivatola? Dice che è aggressivo piccolo Giusuè. Come mai? E non c'è motivo. Hai finito? Mi so accarmato adesso. Vuoi questa bevanda che ho preparato per te mentre nessuno mi vedeva? Vedi che fa bevande sospette? Ci mette d'oca nello strudel. Ezechia che tutti i pagani si porta via, capitolo 30. Questo re finalmente, con la testa sulle spalle, ristabilisce tutti i riti e ristabilisce la Pasqua. Oh, finalmente! Da quant'è che non si festeggiava la Pasqua? Eppure Dio non ha fatto altro per tutti i libri che ricordare che Lui è quello che li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. Ma sul serio non ci siete arrivati? Dio stava disperatamente tentando di ricordare a tutti il giorno del suo compleanno. Per questo ha stabilito la Pasqua. Invece no, auguri Baal, auguri Moab e Dio niente. Poi se manda le pandemie dite che è stronzo. Non è stronzo, non è cattivo. È solo deluso da voi. Ecco dai, è il tuo momento, Gesù. Capitolo 30. Allora, c'è Ezechia che fa Pasqua nel giorno che non era Pasqua, perché tutti si sono dimenticati. Dice, quando è Pasqua? Dice, boh, famola oggi, basta che la famo. E allora corri da qua e tutti addi, oh, dice Pasqua, ma che davvero? Ma che te pare? Allora tutti che si accavallano per fare Pasqua. Dice, ha fatto purezza? Ma come non ha fatto purezza? Monsignore deve menare, ma il signore è buono e non menare. E tutti festeggiano Pasqua felici e contenti. Fine. Ma fa schifo sto riassunto. Mi sono impegnato tanto. No, guarda, non ci siamo. Manca la tecnica, manca l'impegno, manca l'interesse. Poi, si capisce? Io non so se te tengo, eh. Che torno su terra se non mi tieni? No, che so, terra. Te verrà affiancato un tutore con cui farai ripetizioni e poi staranno dei ripresenti. Posso fare io accompagnamento? Buona idea, buona idea. No, che destino terribile. Fermi tutti, che sta succedendo qui? Dio Mosè! Io ero qui solo come supplente, eh. Guardi, accorso che io a te già tormenato, ma dimmi se ti devo rimanare un'altra volta. E lei è, scusi? Sono Mosè, sono il tutore. Eh, è il tutone lui, capito? Diggielo, diggielo che è il tutone. Vabbè, prossima settimana fate voi due o tutti e tre? Io, Andrei, devo sistemare delle scartoffie, cose di lavoro. Segno tuo, capito, va? Ma non eri, non eri prigione galattica? Sì, ma mi sono fatto assumere come avvocato di Gesù e mi hanno fatto uscire. E com'è Gesù ancora dentro? Non lo sanno nemmeno loro, deve essere qualche cavillo burocratico, finché non lo capiscono lo possono far uscire. Strano perché aveva come avvocato Giuda che era bravissimo. Bene, adesso un bel bingis per festeggiare il momento. Com'è che dici sempre tu, Dio Mosè? Tutto è bene quel che finisce bene, alla salute. Ma... ma dove... dove ha preso queste... dove ha preso questa bevanda? Mi ha dato lo spirito Sandro, perché? I blemmi. Strane creature i blemmi. Ce ne parlò anche Plinio il Vecchio, contemporaneo di Gesù e anche ubicato nelle stesse aree geografiche di Gesù. Pensateci, parlò dell'esistenza dei blemmi e non di quella di un tizio che faceva miracoli e risuscitava la gente. Mai. Non sapeva proprio chi fosse. Ma conosceva i blemmi. Siamo giunti alla fine di questa puntata, figlioli. Vi ringrazio per il vostro supporto e per il vostro affetto. Mi raccomando lasciate un like e commentate e fatemi sapere cosa hanno i pensati di questa assurda saga completamente razionale. Vai, roto paradiso. Bene, la prima prova è la pazienza. Sì, vabbè, ciao, nennamo se ne va, manca a fa' brutta figura, va. Ma perché, scusa? Ma io sto eterno, ho la pazienza infinita. Ma che pazienza? Ma hai affogato tutti, hai fatto il diluvio universale. Vabbè, ma che c'entra? Io ho dato comunque una seconda chance, no? Sì, una seconda chance. Con Apocalisse programmata nell'anno del boh, proprio per far ratter il culo nel caso te fossi rotto il cazzo. E noi lo sappiamo tutti che prima o poi te rompi il cazzo. E quindi che vogliamo fare? Fai te a prova di pazienza? Eh, ma sai che sono il più idoneo, eh, a supportare migliaia di anni di angherie, minacce, accuse, per cose che non ho mai fatto e che invece hai sempre solo fatto te. Vabbè, dai, parla te. Dai, blemmo, sono pronto. Ah, non volete sapere le altre prove? No, ne facciamo una per volta, è più pratica. Perché tanto sono in sequenza, non fanno la prima e poi vedremo che c'è per il secondo. Ah, perché pure le altre due sono interessanti e forti, eh? Sì, ma a che c'entra? Che senso c'ha a sapere le prima? Se tanto se non superiamo la prima ne potevamo fare? No, vabbè, lo dicevo per voi, per farvi risparmi a tempo. Magari sentivate le altre due e dicevano, No, queste sono impossibili che io fanno a fare. Senti, che devo fare? Cioè, dici questa prova di pazienza o ti devo lanciare una palla di fuoco? Pelo male, cavoli, fa' te la prova di pazienza, eh? Vabbè, ma era così per dire, un incentivo. Allora, la prima prova, la pazienza, è questa. Non vi vedo? Ma che è? Questa è la prova di pazienza. Dovete resistere? A che cosa? Non la sei inventata sul momento, no? Questa è la tecnica che si tramanda da migliaia di anni, di generazioni, di generazioni, noi blemmi. Dai, spostati lì a meno. Ma no, non capisci. No, ho capito, lo meno e andiamo avanti. È questa la prova. Cioè, lui che fa e scorreggere cascelle è la prova. Che poi sarebbero ascelle o orecchie, perché non si capisce. Ma no, è lui la prova di pazienza, capito? Sopportare lui, un essere così insensato e stupido, la prova di pazienza. E ti pare che possa esistere nell'universo una cosa così deforme e cretina? No, in realtà è vero, è improvvisato. Speriamo che il dissuadebbe, leggendovi tutte le prove. Dai, spostate, che gli do un carcio in faccia. Gli do un carcio in faccia, dai, lo pio, tanto è tutta faccia, non lo posso mancare. Bene, la prima prova è superata. Non vi siete fatti cogliere dall'ira. Di fronte è una situazione frustrante. Ora possiamo passare alla seconda prova. La misericordia. Vabbè, dai, questa è materia tua. Dai, andiamo, ci l'avevo provato. Non si può riusci in tutto, Navida. Però bisogna sapere perdere. Ciao, Blemmo. Salutaci Gabriele, mi raccomando. Ho capito, la faccio io pure questa.